Fallito il referendum sulle trivelazioni petrolifere e gasifere. Soltanto il 31,19% degli elettori ha votato. I sì sono la maggioranza, con l'85,84% delle preferenze. Ma l'esito del referendum non è valido, a causa del mancato raggiungimento del quorum. Solo la regione basilicata supera la soglia minima del 50% dei voti. L'attività di estrazione di petrolio e gas entro le 12 miglia dalla costa potrà dunque continuare fino all'esaurimento del giocimento. Di fronte all'evidente vittoria del governo Renzi, le associazioni del Comitato per il sì al referendum non si fermano e presentano ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto cinque concessioni sarebbero scadute da tempo e la proroga risulterebbe illegittima. Ma oggi la vittima è la democrazia. I media, silenziati, hanno agevolato l'esplicito invito del premier Matteo Renzi e dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all'astenzione. Mentre gli elettori, per ignavia o per convinzione, incapaci di reagire alla tracotanza del potere e insensibili alle tematiche civili, hanno preferito andare al mare piuttosto che andare a votare. Baat, il partito del presidente siriano Bashar al-Assad, ha conseguito la vittoria alle elezioni parlamentari del 13 aprile, aggiudicandosi 200 seggi su un totale di 250. Sebbene l'affluenza alle urne abbia raggiunto il 57%, il Dipartimento di Stato americano non intende riconoscere le elezioni, poiché, afferma, il governo di Damasco soffoca le proteste del popolo e ha già costretto alla fuga milioni di persone. Il portavoce del Ministero degli Estri della Federazione Russa, Maria Zakharava, fa notare a Washington che a rigor di logica non avrebbe dovuto riconoscere nemmeno le elezioni del 2014 in Ucraina. Nel frattempo continuano gli scontri tra l'esercito di Damasco e i suoi oppositori. Mentre le truppe siriane erano impegnate nella riconquista di Palmira e di Al-Karyatain, i guerriglieri dell'opposizione hanno più volte violato la tregua unendosi alle operazioni militari dell'organizzazione terroristica Jebhat al-Nusra nei pressi di Aleppo. Tra le città della Siria settentrionale tuttora occupate dai terroristi, Aleppo è la più grande, nonché la più importante dal punto di vista strategico. La scorsa settimana il Ministero della Difesa di Damasco ha annunciato l'offensiva per la liberazione della città. Ma Washington non è d'accordo e pretende che Mosca convinca Assad ad abbandonare il suo proposito. In caso contrario, gli Stati Uniti sospenderanno il cessato e il fuoco e la CIA potrebbe equipaggiare i guerriglieri dell'opposizione con armi molto più potenti di quelle fornite finora. I politici di Tallin e di Riga si recano a Mosca con la coda tra le gambe. Mentre i paesi baltici ospitano le esercitazioni militari congiunte dell'Alleanza Atlantica, il Cremlino ordina di dimezzare il volume delle merci russe in transito attraverso Estonia e Lettonia. La Federazione Russa, infatti, preferisce servirsi delle infrastrutture nazionali costruite negli ultimi anni. Ma Tallin e Riga, consapevoli delle ricadute economiche di un tale scenario, chiedono a Mosca di ripensarci. Secondo gli analisti lettoni, se il Cremlino dovesse respingere la richiesta, salterebbero 500 posti di lavoro soltanto nel settore ferroviario. Riga piange sul latte versato. Il 6 aprile, infatti, il ministro degli esteri, Edkars Rinkiewicz, paragonò la Russia al Terzo Reich, annunciandole lo stesso destino. Una domanda sorge spontanea. Che cosa spinge Riga a voler collaborare con uno Stato ormai prossimo alla fine? Con 367 voti a favore, 137 contrari e 7 astensioni, la Camera brasiliana ha votato la messa in Stato di accusa per la Presidente Dilma Rousseff. Anche alcuni deputati del PETE si sono espressi per il procedimento di impeachment, che tra un mese sarà vagliato a maggioranza semplice dal Senato. Appuntamento a questo decisivo per la sospensione della carica presidenziale, che passerebbe per 180 giorni nelle mani dell'attuale Vice Presidente Michel Temer, in attesa del verdetto finale, che richiederà la maggioranza dei due terzi del Senato. Ma anche Temer potrebbe subire la procedura di impeachment, per le medesime accuse di Dilma, che avrebbe truccato il bilancio dello Stato nel 2014. Ex guerrigliera torturata durante la dittatura, delfina dell'ex Presidente Luís Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff è entrata nella storia nel 2011, prima donna a vincere le elezioni presidenziali. Rischia di finire come Fernando Collor de Mello, unico Presidente brasiliano destituito nel 1992 per corruzione. Più di 200 milioni di brasiliani, divisi da mesi di aspro confronto, hanno seguito con il fiato sospeso la prima grande battaglia di questa spietata guerra di potere, che lacera il colosso dell'America Latina. Secondo diversi analisti politici, come Pedro Ruda, della Pontificia Università Cattolica di San Paolo, l'impeachment potrebbe causare danni alla giovane democrazia del Brasile, ristabilita nel 1985 dopo due decenni di dittatura militare, in quanto si tratterebbe di un colpo di Stato, un pretesto per abbattere un Presidente che è stato eletto da 54 milioni di persone. Comincia ad affiorare la verità sull'operazione antiterrorismo del governo dell'Ucraina. Dmitry Timchuk, deputato del Parlamento ucraino e coordinatore del sito filogovernativo Resistenza Informativa, ha ammesso che il governo si è servito di volontari pregiudicati per scatenare un conflitto nelle regioni orientali dell'Ucraina. Maggiori informazioni sull'intervista di Dmitry Timchuk per l'emittente televisiva Ucraina 112, nello speciale Criminali al servizio di Kiev. Grazie a tutti! neue Grazie a tutti.